Buongiorno e benvenuti all'edizione del mattino di Calabria. News 24 informa, secondo i dati dell'IOM, l'associazione italiana di oncologia medica, cresce sempre di più il numero di italiani colpiti dal cancro, costretti a cambiare regione per curarsi. La Calabria purtroppo è in testa alla classifica. Sentiamo Paolo Talarico. Notizie decisamente non buone per la sanità calabrese, ma in particolar modo per quella di tutto il centro-sud. Secondo i dati dell'IOM, l'associazione italiana di oncologia medica, infatti, sono quasi 800.000 gli italiani colpiti dal cancro che sono costretti a cambiare regione per curarsi e si va soprattutto dal sud verso il nord, in particolare a Milano. Nel dato per le singole regioni, infatti, la Calabria è seconda solo alla Campania con 52.000 casi, ma c'è da considerare la differenza del numero di abitanti che fa sì che la Calabria sia prima in termini di percentuale. Sempre in riferimento ai dati calabresi, il 62% dei pazienti con tumore del polmone e il 42% di coloro che hanno un cancro a seno vanno fuori regione per l'intervento chirurgico di asportazione della neoplasia. Considerando la chirurgia per le neoplasie più importanti, la migrazione sanitaria in Calabria raggiunge il 37%, con 1.999 ospedalizzazioni nel 2012 fuori dai confini locali. A questi si aggiungono 1.941 ricoveri per chemioterapia ex-regione, numeri che hanno portato l'IOM a richiedere interventi urgenti a partire dalla realizzazione della rete oncologica della Calabria e dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. La Banca di Credito Cooperativo ha sottoscritto un accordo con l'Università Telematica Pegaso. Nuovi servizi aggiuntivi per le cooperative e per i soci di clienti della Banca di Credito Cooperativo grazie all'accordo sottoscritto con l'Università Telematica Pegaso, la quale sarà in grado di offrire nuovi percorsi formativi. Il protocollo è stato filmato presso la Federazione Calabrese della BCC tra i due presidenti Nicola Paldino e Danilo Iervoglino. L'importanza del protocollo è l'inizio di una collaborazione con Unipegaso per sviluppare attività che siano di crescita delle nostre cooperative e soprattutto sul territorio. Noi lo firmiamo in Calabria perché la Calabria è un territorio che ci interessa molto particolarmente perché crediamo ci possa essere un grande sviluppo del movimento cooperativo. L'accordo ha valenza nazionale per noi e quindi verrà poi ovviamente portato su tutte le nostre organizzazioni territoriali. Crediamo che serva una collaborazione seria fra l'Università ed organizzazioni imprenditoriali, nel nostro caso quella della cooperazione, per far crescere i cooperatori nei saperi non solo nei saperi tradizionali ma anche quelli innovativi. Con questo protocollo diciamo che definiamo le linee di azione da fare congiuntamente con Pegaso, l'Università Telematica Pegaso, che abbiamo intercettato con colloqui avuti informalmente e che adesso abbiamo messo a regime con questa convenzione e che quindi speriamo di andare avanti facendo degli aggiornamenti continui su anche le attività che svolge la federazione con le BCC e quindi la formazione per il personale delle BCC. Insomma è un'attività che speriamo vada bene e verificeremo ogni anno come andrà a finire. La manifestazione che la Pegaso è attenta alle esigenze del territorio, vuole intercettare i reali fabbisogni della società per fornire dei percorsi quanto più spendibili al mercato del lavoro. Lo vuole fare attraverso una modologia e un paradigma totalmente innovativo che è adatto ai giovani ma anche a coloro che lavorano. Vuole venire in conto soprattutto alla modernità che l'industria 4.0 vuole proprio non solo del management ma anche dei lavoratori nel solco del lifelong learning perché le competenze non solo devono essere acquisite ma devono essere anche manutese. Oggi sdoganiamo dei percorsi formativi insieme alla BCC per fornire degli strumenti non solo ai giovani ma anche ai meno giovani che possano poi essere spesi nel mercato del lavoro e quindi con un placement immediato. Accompagnato dal sindaco di Rende Marcello Manna, il maestro Gualtiero Nicolini ha visitato la scuola di liuteria inaugurata da poco tempo. Il presidente nazionale dell'associazione liuteria artistica italiana Gualtiero Nicolini ha visitato la scuola di liuteria nella parte storica della città di Rende del maestro Emilio Natalizio inaugurata dal sindaco Marcello Manna qualche mese fa. L'intenzione del presidente nazionale è quella di far diventare la scuola del maestro Emilio Natalizio un centro di eccellenza per il Sud Italia visto e considerato che ci sono tutti i presupposti. Ritengo che ci siano le possibilità che questa scuola si realizzi, si concretizzi e abbia un numero notevolissimo di allievi anche perché c'è una grandissima volontà da parte dei giovani di avvicinarsi all'luteria, al ristauro, alla costruzione, chitarra battente in maniera particolare nella zona ma violini, viole, celli, contrabbassi eccetera e quindi il maestro Natalizio è in grado soprattutto poi con il progetto che stanno portando avanti di un centro di formazione professionale e di estenderlo anche ad altri maestri e quindi creare una preparazione reale e quindi non solo manuale ma quindi un discorso anche culturale. Ad accogliere il presidente Gualtiero Nicolini il quale ha consegnato anche dieci borse di studio a dieci bambini i quali parteciperanno al corso di avvio alla luteria il sindaco di Rende Marcello Manna. Sì, è un segnale importante per quello che si vuole fare come progetto complessivo di una scuola di diuteria che si rapporta, devo dire, anche a tutto il meridione. È la prima scuola che c'è, lo diceva il professor Nicolini, potremmo davvero rendere centrale questa iniziativa coinvolgendo anche altri comuni e altri maestri. Le dieci borse di studio vanno ai giovanissimi ragazzi che stanno intraprendendo questo corso e vogliamo sostenerli. È un segnale anche questo importante. Bene, rientriamo in studio dove nel frattempo ci ha raggiunto il dottore Pietro Molinaro, Presidente, la Coldiletti Calabria. Benvenuto Presidente. Benvenuto a lei. Bene, qualche giorno fa si è svolto un appuntamento importante, la giornata dell'agricoltura calabrese alla Fondazione Tirina, questo centro importante, è visto una grandissima partecipazione dove sono stati ovviamente snocciolati tutti quelli che sono i prodotti d'eccellenza della nostra terra. Noi è il secondo anno che abbiamo messo in campo questa iniziativa perché c'è bisogno che l'agricoltura, quella soprattutto positiva, l'impresa è giovane, si possono raccontare, possono confrontarsi anche con le istituzioni. Abbiamo registrato una presenza importante di tanti sindaci, più di 80 sindaci, quindi amministrazioni comunali che hanno voluto con noi condividere una giornata, non solo di festa, ovviamente l'abbiamo fatta con uno spirito positivo e con dei sentimenti positivi, ma soprattutto un momento di confronto con le istituzioni, sindaci, agricoltori, col diretti, con sozio di bonifica, consiglieri regionali e soprattutto parlamentari e le istituzioni massime di questa regione. Il Presidente Irto e il Presidente Oliverio insieme al capogruppo nella Commissione dell'agricoltura Nicodemo Oliverio hanno con noi potuto registrare i passi in avanti che ha fatto l'agricoltura nel nostro Paese e nella nostra regione, ma soprattutto abbiamo potuto condividere e assumere insieme impegni per le prossime settimane e per i prossimi mesi, perché l'agricoltura non può essere ferma, non può in qualche modo sentirsi appagata rispetto ai risultati importanti, soprattutto da parte del Governo nazionale, ma abbiamo delle scadenze che riguardano i consorzi di bonifica e quindi la tutela del territorio e quindi un'erogazione di qualità dell'acqua sempre più certificata e dall'altra parte abbiamo imprese che si devono inserire in agricoltura, tanti giovani che devono ampliare e potenziare le proprie imprese con i fondi comunitari, queste sono alcune delle sfide che abbiamo messo al centro di questo dibattito e siamo contenti non solo della grande partecipazione, ma anche del clima che si è creato in quel momento, soprattutto un clima positivo, riflessivo, propositivo e ovviamente di assunzione di impegni e quindi di responsabilità. La col diretti Presidente, su quali prodotti di eccellenza prevalentemente sta puntando l'attenzione? Noi da sempre riteniamo che questo paniere di biodiversità, che è la grandezza dell'ago elementare Made in Calabria e Made in Italy, ci impone a tutti di non tralasciare nessuna opportunità, ci sono filiere più importanti, più strutturate, più mature potremmo dire, l'olivicoltura è una di queste, l'agomicoltura, la cerealicoltura, la zootecchia, però qualsiasi momento imprenditoriale che valorizza il territorio, valorizza la tipicità, la distintività del Made in Calabria, merita attenzione, perché i posti di lavoro che si sono creati negli ultimi anni, la capacità di esportare, la capacità di produrre valore aggiunto ad ettaro, è fatto da piccole, medie e grandi imprese, ma è fatto da tantissime filiere che sono presenti nella nostra regione, quindi sostanzialmente noi puntiamo sul vero 100% Made in Italy, dove ribadisco anche per l'ennesima volta che il Made in Calabria è un pezzo importante, siamo l'ottava regione d'Italia in termini di prodotti tipici, di prodotti tradizionali, di prodotti DOC, IGP, DOC e quant'altro, allora questo è un patrimonio che va tutto preservato e valorizzato, ma soprattutto è un patrimonio che viene utilizzato da tanti giovani dove con ingegno e con capacità imprenditoriale lo valorizzano nella fase proprio della multifunzionalità dell'agricoltura, noi siamo recentemente stati a Roma dove in Coldiretta abbiamo festeggiato il decimo anno di Oscar Green e la Calabria ancora una volta si è distinta con due finalisti, due imprese, una di Catanzaro di San Flore e una della Piana di Sibari che hanno potuto condividere con tutti gli altri agricoltori, le altre eccellenze italiane in termini di innovazione questo primato, questa capacità di innovare anche su prodotti tradizionali, anche su quelle filiere che apparentemente sembrano superate o sembrano statiche e tradizionali, che invece esprimono innovazione ed esprimono capacità di stare sul mercato. Perfetto, benissimo, grazie Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a lei, grazie. Bene, noi ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui su Calabria News 24, informa, grazie per essere stati con noi, a più tardi.